Salve, ci troviamo nella cucina dell'hotel Cozza per preparare questo tortino di farro, patate e zucchine. Per fare questo tortino ci servono delle patate della Sila Qualità Agria IGP, del farro, pepe nero, caciocavallo, silano d'op, sale, una zucchina, prezzemolo, del burro sciolto, olio e pancetta di suino nero. Abbiamo cominciato facendo bollire le nostre patate, ora le andiamo a tirar fuori. Andiamo a pelare la nostra patata. Tagliamo le fette per poi cubettarla. Dopodiché, in abbondante acqua salata andiamo a cuocere il nostro farro. Ottimizzata la cottura del farro, andiamo a procedere con il taglio della zucchina. e della nostra pancetta di suino nero. Dopodiché, in un padellino antiaderente aggiungiamo un filo d'olio la pancetta e la zucchina un po' di sale e un po' di pepe nero lasciamo cuocere per circa 10 minuti e andiamo a comporre il nostro impasto con cui riempiremo lo stampino mettendo le patate il farro e il nostro soffritto di zucchina e pancetta di suino nero. mescoliamo il tutto nel frattempo andiamo a preparare il nostro stampino con le patate tagliate a fette burriamo e aggiungiamo le nostre foglie di patate crude allora andiamo ad aggiungere del caciocavallo e il nostro impasto di farro patate zucchine e pancetta di suino nero chiudiamo il nostro stampino con una foglia di patata cruda e adagiamo le altre allora lo mettiamo a cuocere per 180 gradi per circa 20-25 minuti abbiamo ottimizzato la cottura del nostro tortino lo tiriamo fuori dal forno e andiamo a impiattarlo aggiungiamo un filo d'olio e un po' di prezzemolo così da decorare il tutto quindi così Grazie a tutti